Tutte le opposizioni abbiamo deciso insieme di lasciare l'aula. Oggi era un Consiglio Comunale un bilancio di assestamento camuffato da delibere come potere del Consiglio. Erano tutte le ratifiche per cui noi siamo svuotati da ogni possibilità di intervenire sulle delibere. Non si possono emendare, non si possono discutere e quindi abbiamo deciso di lasciare l'aula oggi dando un segnale politico molto forte. Il Consiglio Comunale ha delle prorogative, i consiglieri hanno il compito di indirizzo e controllo. Oggi c'è stato negato, erano tutte ratifiche, addirittura mi risulta che una delibera sia stata rinviata dalla stessa maggioranza contro il parere della Giunta stessa loro che aveva fatto questa delibera come potere del Consiglio. Quindi il Consiglio Comunale oggi con solo presente la maggioranza ha respinto una delibera approvata dalla Giunta come potere del Consiglio. Questa è una cosa ancora più grave che dimostra quello che noi abbiamo fatto oggi, cioè il Consiglio Comunale defraudato da ogni possibilità e addirittura la maggioranza che vota contro una delibera della Giunta. Ma è stata sicuramente un'azione concordata tra tutte le opposizioni. Pare chiaro ed è stato spiegato a chiare lettere in aula che l'opposizione è disponibile a un confronto propositivo. Allora quando c'è la possibilità in qualche modo di intervenire su atti proposti con modifiche che possono in qualche modo anche tenere conto delle ragioni che vengono dai banchi dell'opposizione. Essere convocati per, come dire, ratificare provvedimenti immodificabili veramente fa cadere qualsiasi ragione di permanenza in aula. E questo è il motivo. Chiediamo alla Giunta, all'Amministrazione e al Sindaco in particolare che vi sia un maggiore rispetto per l'opposizione ma per l'intera assise comunale. Il problema, comprendiamo la difficoltà in questo momento, manca una pianificazione, una programmazione della spesa. Viviamo giorni di grande sofferenza e di grande precarietà perché siamo in attesa di ciò che il Governo potrà fare per il famoso decreto salvacomuni. Però questo non giustifica ovviamente il continuo ricorso a atti e provvedimenti a prova di giunta con i poteri del Consiglio. Svilisce del tutto qualsiasi ruolo della funzione dei consiglieri comunali.